Sono iniziati oggi sopralluoghi per individuare il regione dei punti vaccinali per mettere a punto la campagna che riguarderà, si spera breve, tutta la popolazione. Per questo vanno individuati dei siti che saranno fissi, messi a disposizione dai sindaci mobili grazie all'aiuto della protezione civile, ma anche a drive-thru sulla scorta di altre esperienze italiane ed estere, dove si potrà fare il vaccino in macchina, come accade per i tamponi. All'Aquila riunione operativa oggi nella sede della protezione civile, alla presenza del direttore sanitario della ASL1, Alfonso Mascitelli, per cominciare a lavorare sul piano di massa, come conferma il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, Mauro Casinghini, che metterà a disposizione tutta la sua struttura per la logistica. Stiamo considerando tutto, tutto ciò che può essere utile ad avvicinarci alla popolazione, quindi a creare un principio di prossimità, esattamente come abbiamo fatto con i tamponi rapidi, tanto per essere chiari, e in questo ci stiamo mettendo anche ovviamente la riconversione laddove possibile, ovviamente perché noi possiamo interrompere comunque i tamponi molecolari che stanno facendo, la riconversione dei drive-thru, anche quelli della difesa, perché la difesa per esempio c'è la disponibilità, e anche di creare delle strutture mobili che possano, diciamo sì, essere dislocate sul territorio laddove è necessario, in maniera molto più elastica. Oggi sono arrivate intanto 17.550 dosi di Pfizer per proseguire una campagna che secondo il referente regionale Maurizio Brucchi sta andando bene, anche se preoccupa lo stop per AstraZeneca, che in qualche modo comunque rallenterà la campagna. Si attendono su questo punto notizie per giovedì, ma intanto si stanno definendo dei bacini omogenei per le vaccinazioni di masse, saranno messi in campo tutti gli strumenti utili per non farsi trovare impreparati, dice Brucchi. Io mi baserei un po' sulle evidenze, perlomeno della nostra esperienza abruzzese, dove grazie a Dio almeno fino ad oggi la farmacovigilanza ha segnalato soltanto casi di sintomi correlati, ma assolutamente risolvibili con un po' di tachipirina. Aspettiamo giovedì lema per capire che cosa decidono e che cosa anche, diciamo, qual è la valutazione anche da un punto di vista clinico su quanto è accaduto in alcuni stati, compreso l'Italia. Sul discorso della programmazione è chiaro che stiamo rivedendo la nostra programmazione, oggi siamo qui anche per questo con l'ASL dell'Aquila e proseguiremo questo viaggio oggi nelle quattro e altre tre ASL per diciamo programmare un po' a 360 gradi quello che sarà la vaccinazione di massa. Ci saranno sedi vaccinali fisse, sedi vaccinali mobili e drive-thru, quindi diciamo non mettiamo in campo tutto quello che è possibile anche perché si va verso la bella stagione, si va verso il caldo per cui anche il drive-thru può essere un meccanismo da utilizzare.